E tu, da dove hai preso quei cosi? Amazon! Ah, spero almeno che non abbia usato la mia carta. È vero pure che sono l'unico ad averne una. Dio, che stai facendo? Questa nuvole è dannatamente difficile da parcheggiare. Ma attaccala ad un albero e non pensarci. Alberi, io credo in voi! Scusa, ma che è stato? Sarà stata una gazzella a scorreggiare. Ah, comunque questo è un passo carrabile. Quindi non posso parcheggiare? Certo che puoi, però almeno attacca il cartello da un'altra parte. Che so, un albero ad esempio. Anzi, meglio ancora... No, che fai? Fissa la te... Coglila! Non riesco più a muovervi! Oh no, non funziona! Oh cavolo, 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 cavolo! Adri, stacca subito questa maledetta scopa! Adrii! 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 Vero... Non puoi muoverti. Oh... Eh? Ora sì che Crep ci spudella. Tutte e tre in punizione! Crep, non sai nessuno per dirci cosa fare. Mi rifiuto! Questa è una padella! E queste sono delle umili scuse. E questa è una fine episodio. E questa è una fine episodio.